Ciao, in questo brevissimo video ti darò tre consigli per registrare la video cover letter perfetta da allegare al tuo curriculum. In questo modo avrai un vantaggio enorme e potrai farti conoscere prima, proprio mentre l'azienda sta visionando il tuo curriculum. Numero uno, prepara ciò che dirai. Fai una scaletta in pratica e la cosa bella è che lo puoi fare direttamente all'interno dell'app di Sixty Rec. Un minuto in cui farai un riassuntone di chi sei del tuo percorso di studi e lavorativo, ma soprattutto del perché sei perfetto per questo lavoro. Numero due, relax. Non è un esame. La migliore impressione che si può dare è quella di risultare pronti, spigliati, tranquilli. In più, con Sixty Rec puoi provare e riprovare quante volte vuoi. Ah, e mi raccomando, sorridi. Numero tre, la tua video cover letter deve avere una buona luce. Tu devi essere ben visibile. Registra ad esempio con una finestra che ti illumini il volto. Non farla mai con una finestra alle spalle. A questo punto scarica l'app di Sixty Rec, iscriviti, segui questi consigli e inizia a creare la tua video cover letter perfetta, ma soprattutto invia le tue candidature.